Carismatico. Selvaggio. Inarrestabile. È lo stile di una vera rockstar. Delle tavole calde. Lo so che ti piace. In realtà, le fai impazzire. Preparati per un concerto di sapori. Si sentono tutti gli ingredienti. Che un'orchestra. A base di piatti maledettamente gustosi. Ecco come sono diventati così i miei capelli. Un tocco rock alla fine, eh? A tavola con Guy. Da lunedì a venerdì alle 18.10 su Fine Living. Canale 49.